Coppia molto spesso sotto i riflettori Albano Carrizia e Loredana Lecciso non mancano di raccontare pubblicamente i cambiamenti della loro vita privata. E se Albano reduce da un matrimonio con Romina Power decisamente gossipato abituato alla cronaca rosa per Loredana essere al centro dell'attenzione mediatica qualcosa di nuovo che sembra piacerle. Albano prossimo a debutare come ballerino a Ballando con le stelle, a convincerlo la stessa Millie Carlucci che dopo la partecipazione al cantante mascherato l'ha voluto nel cast della nuova edizione Albano e Loredana Lecciso vita da fidanzati. Secondo alcuni rumors accreditati anche dallo stesso cantante di Cellino San Marco, Albano e Loredana stanno vivendo la seconda fase del loro amore. Oggi che entrambi i figli si sono trasferiti a Milano per studiare si sono ritrovati soli nella tenuta pugliese del cantante, ritrovato la serenita, sono uniti Pia che mai, ha rivelato una fonte molto vicina alla coppia. Certo che nonostante la finita e il momento top Albano non parla ancora di matrimonio, e continua ad affermare d'essere unito mentalmente alla let. Loredana Lecciso apera quadrato affermato pubblicamente che andrà spesso a trovare i suoi figli, sono adulti ma a suo avviso hanno sempre bisogno della loro mamma, fara quadrato la pendolare con Milanoa per andare dai miei figli. A insomma Loredana si godrà ogni momento con il compagno ma non dimenti che era di seguire Jasmine e Bido nel loro percorso di vita, sempre un passo dietro a loro e alle loro scelte. Leggi anche a trattino maggiore Jasmine Lecciso boom di visualizzazioni per i suoi video musicali. La passione per la musica non l'ha distratta dagli studi, la giovane figlia d'Albano ha deciso d'andare all'Università Milano e cosa anche il fratello. Jasmine tuttavia non dimentica la musica, interesse che coltiva da anni soprattutto sul web. Leggi anche a trattino maggiore. Lo signore è stata molto apprezzata dal pubblico. Allo stesso tempo la hit girl spopola in rete, i video delle sue canzoni Ego e Calamite stanno tenendo tantissimi liche e condivisioni e di questo Jasmine non non esserne contenta. Leggi anche a trattino maggiore.